difficile da tenere se poi ci aggiunge come oggi il tiro da tre punti il stavo guardando questa rimessa che è importante ci prova da tre dentro finalmente il punto da tre arriva quando veramente ce n'è bisogno impatta il partito 67 pari con Luca Conte stavo guardando anche il cronometro purtroppo è stata una rimessa che non deve essere che non deve essere venuta proprio come era stata disegnata perché ho visto tanta trepidazione infatti ho anche interrotto di parlare perché vedevo che questa palla non si muoveva è andata nelle mani di Conte la difesa di Ferrero era un po' in ritardo e Billo si è confermato il cannoniere di Raffa quale è e quale è sempre stato in tutta grazie a tutti grazie a tutti